A tutte le pattuglie, alcuni agenti sono impegnati in un eseguimento codice PLE a volta velocità, ulteriori dettagli su schermo, unità di canale 1. Il sospetto guida una Camaro arancione. Incidente, 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 unità perduta. Abbiamo contatto visivo col sospetto. L'opera di munico in auto serviranno soccorsi in fretta. Unità periuso, ripeto, unità periuso, inviare altre coperture. Capite a genuotare, l'applico non fretece. Così può andare, prendiamolo. E' qui, non riuscirò a superarlo. Maggi, veniti, veicolo è qua, è benedetto. Frile 5-3, 10-23, all'inseguimento. La pausa dei problemi, sto allentando. Visuale persa, non lo vedo più, in attesa. Unità di pattughe, li ho trovati, abbiamo un codice PLE. Avviso a tutte le pattughe, abbiamo un codice PLE che sta tentando di fuggire. Il sospetto sta cercando in ogni modo di evitare la cattura. Inseguo un veicolo che ha avvera colpito la mia auto, attendete i dettagli. Ricevuto, avanti. Avviso alle unità in copertura. Il veicolo è stato visto l'ultima volta in direzione ovest, sullo svincolo di Kenden. Il supervisore ha richiesto la predisposizione di un quadrante a est dell'ultima posizione nota. La chiamata è sempre codice 6. La chiamata è sempre codice 6.